Io le chiedo soltanto di sapere se le cose che abbiamo letto si riferiscono soltanto a quell'episodio, cioè se ci sono altri fornitori di Expo, se ci sono altri fornitori di Expo che sono stati fornitori anche suoi attività personale, non basta soltanto la risposta. Perché rispetto a contare della questione dei deluti, perché non ci sono altri casi, gli aziende e le persone professionali che hanno avuto adesso per me.